Con che cosa abbiamo a che fare esattamente? Con molestie sessuali estreme sul luogo di lavoro. Queste giovani donne andavano a quelli che credevano essere meeting di lavoro, con un produttore importante. Ci andavano con la speranza di una svolta professionale, magari di un nuovo progetto. Invece loro dicono che lui le accoglieva con minacce e molestie. Parlano di violenza e stupro. Se questo capita a Hollywood, a delle attrici, a chi altro può capitare allora? Grazie.